Buona Federica Brignone da Milano, puoi darci un'anticipazione sulle tute, come sono? Non posso dire niente, mi hanno tagliato la lingua prima di uscire. Sono piaciute almeno? Ma sì sì, sono piaciute. Forse mi piaceva di più quello l'anno scorso, se devo essere sincera. Reduce dalla trasferta in Argentina, com'è andata? Molto bene, abbiamo avuto un mese per fare allenamento, rispetto all'anno scorso il tempo ci ha graziato, c'era molto meno a neve, però grazie all'allenatore di preparazione delle piste siamo riusciti a fare un ottimo allenamento, direi. In tutte le specialità? Sì, per la prima volta nella mia vita ho messo l'uscita di sceda, in demo, forse non mi ricordo, ho fatto pochissimo slalom e basta. Adesso va al Senales per preparare Solden? Sì, due blocchi da quattro giorni, anche lì bisogna sperare nel tempo, sai il ghiacciaio è sempre... Poi è un autunno, non è facile trovare buone condizioni, però speriamo che la pista sia pronta, non ho idea se è pronta, quella ripida ecco. Se pensi all'anno scorso Solden è un flash che ti viene in mente al volo? Tantissimi, troppi, non me lo ricordare. Grazie, ciao! Ciao, grazie!